Il senior nella sua carriera di europea ne può fare anche 3, 4, 5, insomma 6, 7 Finché si va avanti Esatto, mentre la categoria junior ha soltanto un'europea a meno che non lo fai da giovanissima ne puoi fare un paio Sì, un paio massimo Poi inevitabilmente si cresce e si cambia di categoria e si passa senior Allora, come è accaduto ai nostri giovani? Grazie